Ma è semplicemente una regola che mi piace che ci sia. In casa stiamo tutti insieme, abbiamo un centro fantastico da poter vivere in maniera tranquilla e la società mi dà la possibilità di fare questa cosa e i ragazzi sono tutti convocati. Non mi aspetto assolutamente delle barricate da parte loro, quindi penso che sia una partita dove ci si possa divertire. Il pacchetto avanzato, hanno dei buoni attaccanti, conosco personalmente Mazzeo, ci ho giocato insieme, è un attaccante molto pericoloso ma come tutti gli altri, quindi il pacchetto avanzato, non mi focalizzo mai su un singolo ma guardo la pericolosità generale della squadra e è una squadra che può far male. Ho sempre detto che non guardo la classifica e continuo a dire che non guardo la classifica. Vivo settimana dopo settimana, viviamo con la squadra settimana dopo settimana e vogliamo fare il meglio possibile. Noi giocheremo tutte le partite per cercare di portare a casa il risultato pieno e questa voglio che sia la mentalità della squadra. Continuiamo il nostro percorso di avvicinamento ai playoff cercando di recuperare tutti e di mettere tutti nella condizione migliore. Non mi piace gestire soprattutto, non mi piaceva da giocatore neanche gestire me stesso per quanto riguarda le ammunizioni, non mi piace gestire i miei giocatori. Ho dei ricambi di alto livello quindi non mi preoccupano le assenze e non mi preoccupa le squalifiche. Dovremmo stare tutti molto attenti visto che siamo in diversi giocatori difidati però non voglio assolutamente che i giocatori vadano in campo pensando a quello. Sì, devo dire che avere a che fare con giocatori con tante partite alle spalle ha agevolato il mio compito. È un gruppo veramente, come ho sempre detto, valido sotto questo punto di vista. Basta dirgli una cosa che la mettono in atto e la dimostrazione sono i risultati. Sono merito loro perché mettono la concentrazione su tutto quello che fanno e hanno l'esperienza per capire immediatamente quello che gli chiedo. Quindi è una qualità che ha questo gruppo e mi ha agevolato tranquillamente il lavoro.